Salve a tutti e ben ritrovati all'Agri Week Recap. Anche in questa settimana ci siamo occupati ovviamente della questione della ripartizione delle risorse FEASR. Ci sono stati vari incontri, i sei assessori all'agricoltura delle regioni meridionali e dell'Umbria hanno incontrato anche il Ministro. C'è stata poi la decisione della conferenza dei Presidenti delle regioni, in sostanza una mancata intesa, non c'è accordo, la palla passa al Consiglio dei Ministri. Abbiamo comunque 30 giorni di tempo per cercare una soluzione. Ci stiamo lavorando anche in queste ore. Noi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità con alcuni paletti che abbiamo fissato, ma in ogni caso non consentiremo una espropriazione delle nostre risorse. In questa settimana per ben due volte mi sono collegato con il Consiglio regionale, prima con la Commissione Agricoltura e con la Commissione Affari Generali per la discussione del disegno di legge sulla istituzione dell'organismo pagatore regionale, un disegno di legge molto ambizioso che sta trovando anche grandi consensi in Consiglio regionale. L'altro appuntamento è stato anch'esso molto importante, riguardava le aree interne. Abbiamo discusso della criticità delle zone interne, ma anche delle opportunità che abbiamo con la nuova programmazione di mettere in campo misure idonee. Uno dei più interessanti webinar di questa settimana è stato quello con Andrea Benettono e Raffaele Garofano, con i quali abbiamo discusso delle problematiche ambientali connessi al settore esotecno. Sono due grandissimi imprenditori e con loro la Regione Campania intende mettere in campo anche dei protocolli affinché si possa arrivare a delle soluzioni davvero sostenibili in questo settore. Ho incontrato varie OP dell'ortofrutta delle quali mi hanno rappresentato la difficoltà che hanno riscontrato per effetto delle gelate di questi giorni. Per la verità ho fatto anche io visita presso alcune imprese, mi sono toccato con mano i danni subiti. La Regione Campania ha messo in campo tutte le attività possibili per accelerare il percorso per la richiesta del risarcimento al Governo nazionale. In giunta regionale abbiamo approvato due importanti provvedimenti, l'istituzione del centro di riferimento per il benessere animale e per la biosicurezza, ma soprattutto abbiamo approvato l'addendum al protocollo di intesa con il Governo per l'istituzione dell'Agritec, il centro sul quale la Regione Campania punta molto per innovare nel nostro settore e soprattutto per avviarci verso l'agricoltura degli anni futuri. Si sono susseguite moltissime riunioni sulla nuova programmazione, stiamo cercando di mettere in campo delle misure che siano effettivamente corrispondenti alle esigenze del mondo agricolo, ma soprattutto stiamo pensando a come mettere in campo queste misure e quindi a semplificarle al massimo in modo tale da anche ricostruire un rapporto più virtuoso tra pubblica amministrazione e mondo dell'agricoltura. Ovviamente abbiamo trattato tantissimi temi, uno dei tanti incontri che ho fatto è stato anche quello con il mio amico Enzo Abbate, con il quale ci siamo un po' confrontati sull'ultima delibera di giunta sull'autismo, mi ha fatto pervenire un po' di sue perplessità, ma soprattutto abbiamo messo in campo le prime basi per un progetto che possa accompagnare anche il settore dell'autismo anche in agricoltura e abbiamo anche coniato un brand che sarà Agri Out, quindi anche su questa misura punteremo molto nell'ambito dell'agricoltura sociale che vogliamo sviluppare. Altro incontro interessante di questa settimana è stato con la società spin-off dell'Università Tor Vergata, abbiamo discusso in sostanza della valutazione di impatto degli investimenti pubblici, io ho chiesto ai professori che hanno interloquito con me la possibilità di individuare un format per iniziare a valutare effettivamente gli investimenti che facciamo in agricoltura, che ricaduto hanno sia dal punto di vista economico che sociale. Insomma stiamo lanciando l'agricoltura di questa regione un passettino più avanti rispetto alla tradizione. Mi fermo qui, saluto tutti quanti voi, ma voglio lasciare un saluto particolare a due persone, innanzitutto a Filippo Diasco che dopo sei anni di direzione generale lascia questo assessorato, una persona davvero squisita, una persona sempre sul pezzo, ma l'altro saluto va a Mariella Passeri, la nuova direttrice generale dell'assessorato all'agricoltura, una persona davvero speciale, una persona che ha dimostrato sul campo di valere, questo è un riconoscimento assolutamente meritato per competenza, per storia personale e per la passione con la quale si dedica a questo settore. Insomma siamo pronti per mettere in campo davvero l'agricoltura del futuro e come dico io, team building. Ciao a tutti.